Matteo Nardi, seconda sconfitta di fila, questa è piuttosto male. Sì, purtroppo il momento è quello che è, siamo un attimo in difficoltà, non so nemmeno capire se è una difficoltà fisica, sinceramente non me lo spiego. E purtroppo sono due partite che ci dice male, commettiamo degli errori troppi e puntualmente veniamo mastigati. Una squadra vera si vede anche in questi momenti, c'è solamente da tirarsi su, da reagire e vincere tutte le prossime. E la prossima è una partita importante, Poggio Bonzese Prato, a te cara sei un ex, sarà una sfida difficilissima. Sì, ormai sono un ex di vecchia data, ormai non sono più un ex. E vabbè, sarà una partita interessante, sicuramente dobbiamo cercare di limitare al minimo, anzi pare allo zero, gli errori. Tanti errori in difesa e l'attacco anche un po' poco cinico. Sì, sai, non è semplice quando trovi squadre che comunque difendono a 12 metri, devi riuscire a trovare spazi per tirare in porta, spesso le squadre sono organizzate, difendono bene, quindi non è molto semplice giocare contro squadre che difendono a 12 metri, però noi se vogliamo arrivare in alto dobbiamo riuscire a giocare e a vincere anche contro queste squadre. Sul 3-3 avete provato a vincere? Sì, sì, noi ci proviamo sempre a vincere. Una caratteristica di questa squadra è che non scende mai in campo né per un pareggio né per limitare danni, niente. Per noi il chiodo è sempre lo stesso e sempre fisso. Sono tre punti. Purtroppo a volte ci riusciamo, a volte chiudiamo le partite prima, addirittura della fine, a volte come è successo il sabato scorso e oggi non ci riusciamo e nonostante il recupero non riusciamo a mettere quel qualcosa in più che ci farebbe vincere le partite. Al fisco finale, comprensibilmente, teste basse, facce scure, come si ritrova adesso l'entusiasmo? Come si ritrova? Giocando, allenandosi bene, giocando, rimanendo umili, cercando di riflettere sugli errori che facciamo. In primis il sottoscritto, così, però è necessario reagire.